Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Maira e oggi andiamo avanti con The Sims 4. In questo episodio vorrei fare una cosa che mi state richiedendo da molto molto tempo, ovvero andare a scoprire quel lotto misterioso che si nasconde all'interno di una miniera a Oasis Springs. Il problema è che bisognava raggiungere il livello 10 dell'abilità di manualità, ma visto che il nostro Riccardo ha la passione della scultura, gli abbiamo creato persino un piccolo laboratorio sotto casa sua, sono riuscita a raggiungere appunto il livello 10, così adesso possiamo andare a scoprire quell'otto. Intanto, torniamo qui da Riccardo, perché avendo raggiunto l'abilità 10, il livello 10, mi ha sbloccato un sacco di sculture. Intanto abbiamo questa qui che è carinissima, è una scultura di un boscaiolo grande, ma poi c'è anche la scultura di un osso grande, provarei a farla. Poi, scartano, aspettiamo che abbia finito. Nino è tornato da scuola, ho visto, sì. Oh, cos'è successo qua? Esame ripetuto. Oh, per un evento scolastico è andato male qualcosa. Beh, visto che sei a casa puoi andare a fare i compiti. Come va qui? Ormai è diventato abilissimo a scolpire addirittura con un coltello. Bene, anche lui è tornato a casa. Potresti... No, stai bene. Cosa posso fargli fare? Vediamo. No, ho sbagliato pulsante. Non volevo, aspettate. Eccoci. Volevo tornare di sopra. Quasi, quasi. Vediamo se deve fare qualcosa per il lavoro. Risolverci... Ah, bisognerebbe risolvere dei casi, mannaggia. Così mi ottiene anche una promozione. Ricordiamocelo, dai, che la prossima volta che torniamo dei vecchietti cerchiamo di risolvere un caso. Me ne manca uno. Eh, sì. Sì, 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 dai. La prossima volta andiamo a risolvere un caso con lui. Visto che c'è lei che sta guardando la tv, potresti partecipare. Uh, bene. Ha concluso la scultura. Vediamo subito. Beh, pensavo fosse un po' più grande. Magari spostiamo queste. Allora, questa la mettiamo qui per terra. Vediamo se ci sta... Sì. Ci sta... No, non ci sta più quella del coniglio, poverino. Ah, ci sta qui. Benissimo. Ah, una cosa importantissima. Hanno rilasciato un aggiornamento che permette di selezionare dei tratti per la propria casa. Credo sia una cosa che verrà poi sfruttata meglio con la nuova espansione che uscirà il 3 novembre. Quindi l'espansione poi la vedremo la settimana prossima. E, appunto, stavo dicendo, questo aggiornamento, vedete, ha aggiunto questo pannello. Allora, qui abbiamo le informazioni base del nostro lotto, potete cambiargli il nome, le solite cose che prima erano qui in alto. Hanno aggiunto i tratti. Ce ne sono tre disponibili. Assegniamoli, vediamo un po' a cosa servono. Abbiamo accogliente. L'atmosfera accogliente aiuta il sim a impadronirsi rapidamente delle arti domestiche di cucina, mixologia, manualità e giardinaggio. Questa è buona per noi. Internet veloce. Un'ottima connessione online aiuta coloro che cercano di migliorare le proprie abilità di programmazione, videogioco, scrittura. Ah, ma che belle queste cose. Praticamente ogni strato è legato a un'abilità del sim. Vediamo. Acustica grandiosa. Qui l'acustica è perfetta. Un attimo posto dove qualsiasi musicista può affinare le proprie abilità. Eh sì, mi sa proprio di sì. Coscientifico. L'atmosfera appartata indica che le grandi menti dedicate allo studio della logica o della missilistica non si distrarranno facilmente. Conviviale. L'atmosfera spaziosa ma intima rende più facile sviluppare a piacimento il carisma, la comicità e la malizia. Quindi secondo me questi tratti si potrebbero anche assegnare in base a cosa vogliamo far sviluppare poi ai nostri sim. Luce naturale. Qui la qualità della luce rende molto più facile approfondire la pittura e la fotografia. Ma è bellissimo. Brezze tonificanti. L'abbondante aria fresca rende l'ambiente tonificante per fare esercizio. Di mano privata un loto residenziale con questo attratto scoraggia tutti i visitatori tranne i più determinati. È poco efficace sui ritrovi commerciali. Allora per la casa dei vecchietti direi sicuramente accogliente perché mi aiuta con la cucina, la manualità e il giardinaggio. Che sono tre abilità che i nostri vecchietti sviluppano molto frequentemente. Quindi questo va bene. Internet veloce non mi serve. Nemmeno quella dell'acustica. Potrebbe essere interessante invece il covo scientifico. Soprattutto per lo studio della logica. Abbiamo una scienziata e più il piccolonino che vuole essere un bambino prodigio. Quindi direi che è ottima. Conviviale, piacerebbe carisma, comicità e malizia. Forse questo non ci serve. Pitu la fotografia neanche. E allora mettiamo questo. L'ambiente tonificante per fare esercizio fisico. Sì dai ci può stare. Di mano privata no. E abbiamo scelto i tratti per la nostra casa. Bene, possiamo andare ad esplorare questo lotto misterioso. Vediamo, lui è finito di fare la scultura. Poi per quanto riguarda le altre sculture. Allora, il ceppo di coltelli l'abbiamo fatto. Boscaiolo grande c'è. Il cavallo c'è. Coniglio c'è. Il drago c'è. Elefante è questa qui. Credo di sì. E poi l'orso grande l'abbiamo appena fatto. Vediamo se questo... Sì sì, è l'elefante. Ci sono anche i mobili. Decorazione da parete. Proviamo dai. Mi ispira. Che cos'è questa cosa? Sapete che forse si è attivata con il tratto che abbiamo appena dato alla casa? Forse mi indica che sta sviluppando più velocemente la manualità che abbiamo già raggiunto il livello 10. Dovremmo provare, per esempio, con l'abilità di cucina. C'è qualcuno che non sta facendo niente? Ecco, voi state chiacchierando. Proviamo a cucinare qualcosa. Questo lo buttiamo via. Facciamo. Assumino. Cucina. Volevo provare... Eccolo qua. Il pan de muerto. Che è una nuova specialità che hanno aggiunto per la sfida del dia dello smuertos. Adatto ai vegetariani. Facciamo un bel formato festa. Che è un dolce tipico per questa celebrazione. Ah, sì! Che bello! Sì, praticamente, mi indica proprio che sta sviluppando più velocemente l'abilità. Ottimo! Bellissimo questa cosa dei tratti. Vediamo se lui ha finito. Anche lei è tornata a casa. Ottimo. Devi fare qualcosa per il lavoro. No, non deve fare niente. Va bene, ma hanno cambiato anche questo? Mi sembra più piccolo. Non so se sia una mia impressione. Ma mi sembra più piccola questa scheda. Non so. Dai che è quasi finito. Ah, ha fatto i cuoricini, ok. Ma penso che allora queste cose... Dove me le ha messo? Qui. Oddio, abbiamo ancora tutte le cose del campeggio l'ultima volta che ci siamo andati. Uh, ma è grandissimo. Dove lo mettiamo? Qui. Credo che i mobili che lui può costruire, in realtà, siano tutte cose che poi possiamo trovare anche nella modalità compra. Allora, fioriera, gabinetto, mensola da muro, sala da sgabello, specchio, tavolino, vasca da bagno. Proviamo a costruire la vasca da bagno, solo per curiosità. E poi andiamo. Qua gli serini come stanno? Sono bene, sì? Li avevamo raccolti ancora tempo fa al laboratorio di Zea. Uh, fatto! Ah, ma è proprio di legno! Aspetta, aspetta! No, ma è una vasca da bagno fatta di legno! Ma questo non credo ci sia in modalità compra, perché non l'ho mai vista! C'è uno spazio qui in bagno? Dai, la mettiamo da qualche parte, ce la facciamo stare... Magari, allora, spostiamo questo... Mettiamo la vasca qui... Ah, potremmo... Fare così! Sì! Aspettate che devo spostare questo... E poi, visto che ci siamo, mettiamo anche un asciugamano, magari... Vediamo se li trovo, perché non mi ricordo più... Dovrebbero essere qui... Eccoli! Ci possiamo mettere... No, voglio proprio l'asciugamano... Ah, no, l'accapatoio ci mettiamo! Ci mettiamo un bel accapatoio qui, perfetto! Vediamo cosa mi dice... Vasca da bagno! Fa il bagno come ai vecchi tempi, circondato dal legno! Quale modo migliore per riavvicinarsi alla naturale purezza? Se non rilassarsi in una vasca ricavata da alberi! Carinissima! Dai, andiamo! Uh, lui è furente! Ah, perché ha una testa calda! Ha bisogno di qualcosa? No, sta benissimo! E allora andiamo! Eccoci tornati! Siamo nel parco di Ozzy Springs! E la miniera dovrebbe essere da questa parte! Vediamo un po'... Se mi ricordo... Qui forse... Sì, eccola qua! Ma questa? Ah, no, è un piccolo stagno, ok! Forza l'apertura! Benissimo! Adesso possiamo farlo! Vediamo se ce la fa ad arrivare perché è distantissimo! Eccolo, eccolo! Uh, ci sono degli occhietti che ci guardano! È così inquietante! Possiamo entrare? Gabbana! Vediamo un po' cosa succede se mi dà dei messaggi come per la radura silvestre! C! Esplorazione della caverna! Riccardo, che è sempre stato un esploratore intrepido, si avventura nella caverna! Ci sono due sentieri, quello più stretto è reso angusto dalle stalattite! Ma se Riccardo si restringesse come una stalagmite, riuscirebbe ad attraversarlo! Scegli il sentiero stretto o largo? Beh, proviamo! Esplorazione della caverna! Lo squarcio oscuro e tortuoso si rivela troppo difficile da percorrere! Riccardo si sente preso, ostacolato e frustrato! No! Ma è tornato fuori! Dai, su! Qualcuno potrebbe pensare che sia difficile perdersi in un luogo mistico! No, non l'ho letto! Allora, questa volta prendiamo il sentiero più largo! Quello qualcuno sbaglierebbe in modo vergognoso, ok? Non occorre fare tentativi pericolosi! Riccardo scende strisciando lungo il sentiero principale! Nella debole luce è rimasta nota un tracciato a rampa che sale e una scala traballante che scende! Segui il tracciato a rampe o sali sulla scala? Allora, il tracciato a rampe sale, la scala scende! Beh, se è una miniera magari bisogna scendere! Riccardo scende con cautela in un abisso nero, procedendo carboni su pioli pieni di schegge! Dopo una lunga discesa, una debole luce azzurra inizia a illuminare quel che si vede in basso! Riccardo può addentrarsi in un precipizio buio e muschiato, continuare verso l'azzurro! Passa sulla sporgenza e continua a salire! Luce azzurra, però c'è una luce azzurra che illumina il basso! Quindi, o ci addentriamo o continuiamo verso l'azzurro! Cioè, o saliamo praticamente verso il cielo o andiamo giù! Proviamo a scendere! Oh, un sentiero morbido e muschiato permette a Riccardo di procedere senza fatica, finché non riesce a vedere l'ingresso di una bella grotta! Raggiunge la grotta, torna all'ingresso della caverna! No, raggiungiamo la grotta! Vuoi inviare Riccardo alla grotta dimenticata? Assolutamente sì! Eccoci arrivati! Oh, bene! Abbiamo finalmente scoperto anche il secondo luogo misterioso! Wow! Forse è anche più bello della radura silvestre! Allora, diamo subito... Un'occhiata, ma ci sono... Ah, no, sono lucciole! Vediamo se per caso c'è qualcosa di particolare da raccogliere! Allora, qua si possono forse cercare le rane, sì! Vediamo se ci sono esemplari rari! Una rana tigre! Ah, giusto, lui è anche un collezionista, no, un curatore! Gli piace collezionare bene, quindi siamo nel luogo perfetto per lui! Usa! Che cos'è? Ah, ma è un WC! Ah, forse questo può costruire con la sua abilità di scultore! Mi sa proprio di sì, perché ha fatto tutto di legno! Vabbè, abbiamo usato anche il WC! Ah, qualcos'altro? No, qua è tutto chiuso! Qui non c'è niente! Andiamo con calma e addentriamoci in questa zona! Scava! Scava! Non so se posso portare qui Zea! Sì, porta qui Zea! Dov'è? Eccola qua! Benissimo! Allora, cambiati abito! Quotidiani! Perché a lei forse interessano di più i minerali! Questo che cos'è? Piante selvatiche di salvia? No, ce l'abbiamo già! Perché secondo me lei è molto interessata ai minerali, essendo una scienziata! Abbiamo disuzionato una mappa del tesoro! Vieni qua Zea e dai c'è una mano! Giglio! No! Questo? Patate! No, ce l'abbiamo già le patate! Una giunchiglietta! Un cristallo! Bene! Qua possiamo cercare rane! Qua non ci sono altre piante strane! Sempre patate! Critunio abbiamo trovato! Una rana foglia surfista! Giglio selvatico! Qui ci sono altre rane! Venite qua! Ma abbiamo trovato anche una mappa del tesoro per caso! Sì, abbiamo la mappa del tesoro! Quindi scaviamo qui per trovare il tesoro! Cipolle! Questi saranno funghi, sì infatti! Ci sono i pipistrelli! Vediamo qua cosa c'è! Sempre patate! Questi sono da raccogliere! Questo? Salvia! E basta! Mi sa che abbiamo già raggiunto la fine della grotta! Eh, mi sa di sì! Perché qua non ci posso andare! La ricordo di sottolineare una capsula! Bene! Adesso controlliamo subito! Forse è un po' più piccolina questa grotta rispetto alla raddura silvestra! C'erano molte più cose da raccogliere là! All'intanto vediamo nella capsula cosa c'è! Ah, al solito mai sì! Ma va bene! Peschiamo un pochino? Vai a pesca! E vai a pesca! Lei non ha trovato tesori? No! No, tesori non ne abbiamo! Ma abbiamo ancora le uova di Pasqua! Vediamo se peschiamo qualcosa di strano! Che è che è l'abilità più sviluppata di pesca? Ah, da notare che bene o male tutti i nostri... Oh! Che cosa abbiamo pescato? Tutti i nostri vecchietti sono arrivati quasi alla metà della loro vita! Non manca tanto! Vediamo un po'? Cosa aveva pescato? Non nemmeno visto! Una bocca di leone! Va bene! Volevo vedere chi ha l'abilità di pesca benessere, cottura, pesca... No, abilità 1! Abilità 1, no! Non hanno un'abilità sviluppata, peccato! Magari c'erano dei pesci particolari qui! Con questi cristalli non si fa nulla! Ah, ma qua non abbiamo cercato le rane! Ah, forse si possono cercare più volte! No, ma anche questo non l'abbiamo scavato! Che cosa ha pescato? Un'aquila di mare! Wow! Bellina questa! Dove mi ha portato? Ma non ho raccolto nulla! Adesso ho visto! Ma... Ah, perché è a disagio lei, povera! Eh, c'è il bagno qua! Adesso andiamo in bagno! Aspetta che... È qui! Usa! Basta pescare! Raccogliamo quello che non avete raccolto! Allora, scava! Bene! Ah, un'altra capsula? Sì! Una mappa del tesoro! Allora cerchiamo il tesoro! Scaviamo! Del calo di sotterrato una bambola! Però non penso lui abbia l'abilità di malizia! Un'altra capsula, bene! Abbiamo trovato anche una rana! C'è qualcos'altro? Sì, abbiamo questi due da raccogliere! Questa è salvia! Qua ci sono forse dei funghi, sì! Basta, mi sa che non c'è altro! Vediamo cosa abbiamo raccolto! Allora, capsula, aprila! Un altro, ma sì, ma va bene! Tanto ormai loro stanno facendo la collezione, quindi sono ottimi! Aprila! Lega! Ah, ma no! Ma posso usarla? Aspetta, fammi vedere! Ah, l'abilità 1 di malizia, lui! Per quello può utilizzare la bambola voodoo! Dai, andiamo a casa! Anzi, prima di andare a casa, vediamo se mi fanno uscire... Ah, lei è andata via così! Perché volevo fermarmi in un altro posto prima di tornare a casa! Vuoi andare al caro? Sì! Eccolo qua! Ci ha fatto ritornare a casa, ma non volevo tornare subito! Perché vorrei andare un momento al cimitero! Eccoci qua! Mi avete detto che per quanto riguarda la sfida del dia dello sumoertos... Ci sono delle interazioni anche con le tombe! Sì, eccolo qua! Lascia un'offerta per un tesco di zucchero! Quindi se non riuscite a trovare le persone che partecipano al dia dello sumoertos per ricevere i teschi di zucchero... Potete chiederlo direttamente ai morti! Proviamo! Questa è la tomba di Giada! Oh Dio, no! No, non ce l'ha... Non ci è andato niente! No, mannaggia! Proviamo allora... No? Riccardo ha già fatto un'offerta di recente! Ah, o forse bisogna aspettare? Non so se si debba aspettare! Proviamo a portare qui anche Zea! È arrivata? Sì! Proviamo... Con Michele! Non so se sia una cosa a tempo, quindi bisogna aspettare! Perché effettivamente non mi danno niente! Proviamo con Alessia! E andiamo da Marina! Ah no, non si può? No, aspettate che sto controllando Zea! Sì! Ah, vedete! Ha funzionato! Il gesto rispetto di Alessia è stato apprezzato! Gli antenati hanno udito la sua chiamata e mandato un celebrante del Dio dello Smuertos a vagare per il quartiere! Ah, no, ho capito! Quindi loro... Vediamo questo bambino qui? Ah, sì! Praticamente no, non è il defunto, diciamo, che ci dà il teschio! Ma il defunto richiama a sé i partecipanti al Dio dello Smuertos! Ma ve l'ho saputo prima! Guardate quanti! Guardate in quanti sono! Uno, due, tre, quattro! E basta! Ma no! Averlo saputo prima! Lo facciamo subito! Ah, ci risparmiavamo un sacco di tempo! Va bene, dai! Andiamo a casa, tanto ormai la sfida l'abbiamo già completata con Adriana! E poi un'altra cosa, sempre legata alla sfida, ci sono anche delle nuove interazioni con il Tristo Mietitore! Praticamente se un vostro sim muore durante il Dio dello Smuertos e il vostro sim ha già completato la sfida, può onorare i morti e poi, con quel fumo che gli esce dai piedi, come abbiamo visto nello scorso episodio, può chiedere al Tristo Mietitore di non far morire, insomma, l'altro sim, ma di riportarlo in vita! E il Tristo Mietitore accetterà! Eccoci qua, siamo tornati! Vediamo se per caso hanno bisogno di soddisfare qualcosa! Per esempio, lui ha fame e anche sonno! Uh, cosa ci vale sia qui? Allora, vediamo, 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 assumi! Non catering, no, dovrebbe esserci qualcosa di pronto! Ah, a proposito, avevamo pescato un'aquila di mare! Nooo, che bellina questa cosa! Aspetta, no! No, guardate, c'è un simboletto adesso! Tra noi due non è sempre corso buon sangue, ma non è troppo tardi per stringere amicizie! Che ti dice di fare colazione qui? Ah, perché non hanno un'amicizia alta! Vediamo! No, non partecipare! No, non partecipare! Ah no, non hanno un'amicizia altissima! Vabbè, dai, non importa! Comunque, dicevo, hanno aggiornato anche il piccolo menù per le telefonate! Adesso si vede una nuvoletta! Carina! Stavamo cercando di mangiare, aspettate! Apri, apri, eccolo qui! Allora, prendiamo magari questo! Ci sono sei porzioni! Dai, chiamiamo a tavola! Mangiamo tutti insieme! Chiamo a tavola, su! E poi, dicevo, abbiamo pescato questo! Aquila di mare! Posso metterla nella boccia di un pesce? Dunque, le bocce dei pesci... Chi si ricorda dove sono? Forse sono qui! Vediamo attività e abilità! Qui no! Qui neanche! Eccole qua! Dai, ne mettiamo una in casa! Ci potrebbe stare... Ah, qua ci sta! Sì, dai, va bene! No, posso... Sì, eccola qui! Aspetta, aspetta! No, che bellina! Vedo l'elementario un nome! Posso anche darle un nome! Aquila di mare, è raro! Peso 22 grammi, freschezza ottima! Che carina! Sembra più un pipistrello! Ah, avevamo anche questi da aprire! Aprile! Ma ha chiamato a tavola Alessia? No, sta mangiando da sola! Ah, eccoli qua! Adesso stanno arrivando a mangiare, bene! Ah, deve andare a lavorare, povera! No, noi non partecipiamo, però... Non so se ce la fai a mangiare! No, ma non hai fame! Puoi andare allo stesso! Va bene, direi comunque che possiamo allora fermarci qua con questo episodio! Abbiamo visto quindi anche il lotto misterioso che ci mancava! Dovevamo forse a vederlo ancora quando c'era Veronica, quella generazione lì, ma mi sono sempre dimenticata di mostrarla! Finalmente ce l'abbiamo fatta! La prossima settimana invece inizieremo a vedere la nuova espansione! Per il momento penso che non trasferirò i nostri sim nel nuovo quartiere, perché stavo pensando di trasferirci invece i bambini una volta che diventeranno giovani adulti, quindi vorranno creare le loro famiglie, li trasferiremo nei nuovi appartamenti, perché sì, ci saranno gli appartamenti come penso in The Sims 3 Late Night! Ma anche se comunque non trasferiamo nessuna famiglia, ci possiamo comunque andare per esplorare il quartiere, perché veramente ci sono tantissime novità! Quindi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio, lasciate un piaccio e un commento se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video! Ciao a tutti!